Pescara il volo, un secolo di storia aeronautica, questo il tema di un convegno che è stato organizzato dal Rotary Club di Pescara proprio per celebrare questa importante ricorrenza. Sì, in effetti io ho scoperto, conoscendo il colonnello Dipinto, che Pescara quest'anno è il centesimo anniversario dell'apertura dell'aeroporto. Siccome l'aeroporto ritengo sia una cosa molto importante per lo sviluppo della città, mettere l'evidenza della città, questo onomastico anniversario ritengo sia importante. Parleremo del passato, quindi quando è nato l'aeroporto, la storia di tutto l'aeroporto e poi ci sarà il presidente della saga che invece ci parlerà del futuro dell'aeroporto e quindi sapremo anche dove stiamo andando per quanto riguarda questa attività. Peraltro ho saputo cose importanti, sembrerebbe che uno dei primi voli civili sia partito da Pescara, Pescara-Roma nel 2018-2019, lo sapremo domani e il colonnello Dipinto ci spiegherà. Il futuro, secondo me, come ho detto prima, l'aeroporto è certamente un momento di sviluppo per la città e sarebbe opportuno che continui a funzionare così e anche meglio di così.